Signore e signori, vorrei rubarvi un momento per parlarvi di Diamantino. È un film molto bello, basato sulla mia vita. Ha anche vinto un premio al Festival di Cannes. Spettacolare! Diamantino sono io. Sicuramente avete sentito parlare di me. Mi chiamavano il Michelangelo del calcio. La verità è che quando entravo in campo, succedeva qualcosa di magico. Ma un giorno, tutto è cambiato. Ho perso il mio talento. La carriera di Diamantino è praticamente finita. Vattene al diavolo, Diamantino! Queste sono le mie sorelle. Non sono molto simpatiche. Vieni, Queen! Non scappare! È per colpa loro che mi sono successe un sacco di cose brutte. Cloneremo Diamantino e lo renderemo l'icona del nostro movimento. Oh, signore. Da qui in poi, è andato tutto a rotoli. Diamantino! Ma non volevo che andasse così. Volevo fare del bene. Adesso mi fermo. Vuol direte che sveliamo troppe cose nel trailer. E comunque, i giornali lo dicono meglio di me. Hanno parlato così bene del film che sembra siano stati pagati per farlo. Comunque è proprio una gran cazzo di storia. Quindi venite al cinema. E vi prometto che vi farò vedere tutte le mie mosse speciali.